Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, nel suo intervento serale di ieri sulla nostra emittente nel programma Diretta News, ha dato precisi chiarimenti sul nuovo caso di Covid-19 in città, evidenziando una situazione assolutamente tranquilla. Abbiamo ricostruito con una certa attenzione quello che è accaduto. La persona è di cava dei tirreni e ci lavora, ma vive già da un po' di tempo ad Agropoli con la compagna, che è una nostra concittadina. Il 13 marzo era ancora possibile tornare nel proprio domicilio e, vista la situazione, gli è stato chiesto dall'ASL di effettuare la quarantena e lui lo ha fatto oltre un mese fa insieme anche alla compagna. Verso la fine del periodo, l'uomo ha cominciato ad avere problemi febbrili che potevano essere o non essere collegati al virus. Hanno comunicato all'ASL i problemi e poi hanno proseguito l'isolamento tranquillamente. I due ragazzi non sono usciti, la sorella della donna portava la spesa presso l'abitazione e non si incontravano nemmeno. Dopo giorni passati con la febbre, il tampone è poi stato effettuato sull'uomo e non è stato comunicato al comune di Agropoli perché il paziente dicava dei tirreni. Poi il primo cittadino ha concluso ringraziando anche i due soggetti protagonisti della questione per il comportamento adottato. Quando si è avuta la certezza che il tampone fosse positivo, l'unico contatto da verificare con il tampone è stato la compagna. Non hanno incontrato e contagiato nessun altro. Noi abbiamo solo aggiunto due tamponi al nostro conteggio, però in termini di preoccupazione non c'è nessun dubbio perché hanno eseguito la quarantena in modo preciso. Non c'è nessun rischio per gli altri. C'è stata solo un po' di sfortuna una volta zerata l'ultima catena di contagi. Il comportamento avuto da loro è stato così preciso e radicale e per questo li ringraziamo. Non sono usciti di casa e hanno avuto un comportamento da ammirare. Grazie mille e in bocca al lupo per la fine di questo periodo.